Il diritto preferito è avere i diritti, questo è il punto fondamentale, che significa il diritto alla vita, il diritto di scegliere come vivere, il diritto di lavorare, il diritto delle religioni o il diritto della non religione, il diritto di decidere in piena autonomia di che cosa si fa della propria vita, purché siano rispettati i diritti degli altri.